I giovedì a Fossombrone non sono giorni come gli altri. La neonata associazione Fossombrone Center Shopping ha ideato un'estate piena di eventi ed iniziative per animare in diversi momenti della settimana il più grande shopping center all'aria aperta. Il Corso Caribaldi a Fossombrone per l'appunto con gli oltre 100 negozi che offrono la più vasta offerta commerciale tutta fidelizzata da negozianti DOC. Sta andando molto bene, siamo veramente soddisfatti sia di quello che riusciamo a fare soprattutto in questo periodo con il Magic Summer e sia anche per la partecipazione e la collaborazione che c'è da parte dei colleghi commercianti, da parte di un po' tutti noi ma soprattutto anche del comitato esecutivo se così possiamo chiamarlo che opera settimanalmente ogni settimana per organizzare l'evento del giovedì in questo campo. Uno degli appuntamenti più attesi che anche anno scorso ha registrato la presenza di ben oltre 2000 persone è la grigliata Magic Summer che trasformerà il centro della cittadina in un mega ristorante. Vi aspettiamo quindi questo giovedì dove sono previste migliaia di presenze per la famosissima e ormai rinomata grigliata lungo il corso e ringraziamo tutte le associazioni, ringraziamo i ristoratori e anche i quartieri che hanno veramente contribuito per la riuscita di questa importante manifestazione. Poi mancherà per la conclusione la serata degli anni 50 e la serata country quindi tre eventi da non perdere qui a Fossombrone. Ciao! 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 Ciao!